Perché non mi ha detto la verità? Con che diritto mi ha negato la possibilità di sapere che Umberto era mio padre? Volevo proteggerti. Lui non ti avrebbe mai amato, non ti avrebbe mai considerato suo figlio. Ma che ne sai tu? Che ne sai? Che ne sai come sarebbero andate le cose? Chi sei tu per decidere la vita degli altri, eh? Sono tua madre. Non mi basta più. Non mi basta più per giustificarti. Jacopo, se ho sbagliato, io l'ho fatto solo per amore. Il solo gesto d'amore che potevi fare era raccontarmi la verità. Io volevo che tu avessi una vita serena. Tu me l'hai distrutta la vita, me l'hai distrutta. Che sta succedendo qui? Sto parlando con mio figlio, puoi lasciarci da soli per... Lei invece rimane qui, hai capito? Daniele è mia moglie. È l'unica persona di cui mi fido veramente.